Una che avevo detto di arrivare puntuale, un'ora di ritardo! Ah, eccolo! Ciao, scusa il ritardo! Eh, dai, il tempo stringe! Sai, la prima volta mi volevo fare bello! Comunque, piacere! Piacere, Simona! Oh, sei proprio carina, eh! Da vicino, lo sai? Grazie, troppo gentile! Senti, come vogliamo sciogliere un po' il ghiaccio? Non lo so, tu cosa pensavi? Beh, avevo pensato a un cinema! Un cinema? Ma io pensavo andare in una campagna! In una campagna? Eh, sì, perché volevi andare in albergo? Che andiamo a fare in una campagna? Ma che vuoi, coltivare? Ma così, per conoscerci meglio! E poi mi sono pure messo le scalpe nuove, per cortesia! Ma perché volevi andare in albergo? Che dobbiamo fare in albergo? Per conoscerci meglio, te l'ho già detto! Cioè, per fare quattro chiacchiere, dobbiamo andare in albergo? Scusa, allora dove vuoi andare? Ma che ne so, andiamo a prendere un gelato in una panchina! Ma se ho appena mangiato! Ma tutto a posto! Ma non esiste proprio! Oh, ma per chi mi hai preso? Ma tu non stai bene, oh! Tu non stai bene!